Durante il pomeriggio alcuni fan del GF VIP si sono recati all'esterno della casa di Cinecittà ed hanno urlato delle frasi poco carine nei confronti di Soleil Sorge. Gatta morta è questa l'espressione che è stata usata contro l'ex protagonista di Uomini e Donne, protagonista in queste settimane del triangolo che la vede coinvolta con Alex Belli e Delia Duran. Immediata la reazione di Manila Nazaro che subito dopo queste frasi è corsa da Natalie Caldonazzo e Delia Duran per metterle al corrente di quanto fosse accaduto. Tuttavia, nel riportare tali fatti alle due compagne di gioco di questo grande fratello VIP, Manila si è subito dissociata ed ha preso le distanze da questi attacchi rivolti contro Soleil Sorge. Queste sono cose che non mi piacciono e di cui mi dissocio sempre. Mi ha disturbato questa cosa, ha esclamato l'ex Miss Italia prendendo le distanze da quanto è accaduto, mentre Natalie parlava di cattiveria riferendosi alla giovane influencer. Ebbene, nel momento in cui sia Delia che Natalie hanno scoperto da Manila cosa fosse successo fuori dalla casa del grande, Fratello VIP 6 non hanno potuto fare a meno di esultare e dimostrare così di essere quasi felici. Immediata la reazione di Delia Duran, che non è rimasta in silenzio di fronte a questi attacchi rivolti nei confronti dell'amica speciale di suo marito, Alex Belli. Così, mentre Manila Nazaro si dissociava da tale situazione, ecco che Delia ha rincarato la dose. La gente vede, ha esclamato la moglie di Alex Belli, quasi come se avesse lasciato intendere di essere d'accordo con le urla. Voi cosa ne pensate?